Musica Dopo l'esito del referendum costituzionale che anche in Friuli Venezia Giulia ha visto prevalere i no sui sì, le opposizioni chiedono le dimissioni della governatrice Serracchiani. In municipio Udine è presentato il rendering e il progetto di arredo di via Mercato Vecchio. Rimangono forti le distanze tra comune e commercianti. Riapertura straordinaria di 18 punti vendita del Mercatone 1, tra cui quello di Reana del Royale, riguarderà i prossimi due weekend del mese. Presentato a Lignano Sabbia d'Oro il cartellone di Natale da Mare, ricco di eventi tra cui il grande presepe di sabbia. Capodanno ospiti un centinaia di abitanti di Amatrice. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Udinews. Apriamo ovviamente con le conseguenze dell'esito dell'ampia vittoria del no ai referendum costituzionali, le conseguenze nazionali e anche regionali di questo voto. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, partendo ovviamente dalla situazione nazionale, dall'importantissima situazione in via di sviluppo, in mattinata si è recato al Quirinare per un colloquio di oltre un'ora con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ritorno al Quirinale questa sera per presentare le proprie dimissioni dopo il necessario passaggio della riunione del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda il territorio regionale, sono stati superiori addirittura alla media nazionale, i no al referendum espressi dunque nel territorio. Ben il 61% dei votanti ha cassato, per così dire, le modifiche alla Costituzione promosse dal governo Renzi. Alle urne sono andati 690.717 elettori, pari al 72,51% degli aventi diritto. Non sono ovviamente tardati ad arrivare i commenti politici sull'esito del referendum. Vediamo. Se per il Sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, gli italiani hanno vinto e hanno dato dimostrazione di grande maturità, ma soprattutto hanno detto di voler essere protagonisti, come giusto che sia, nelle decisioni, il suo parigrado di Udine Furionsel, al di là del dispiacere per la sconfitta del Sì, ha voluto ringraziare comunque chi è andato a votare e ha munito sulle ipotesi del futuro governo. La cosa tragica, mi avviso, di questo no è che in realtà alla fine cosa è stato difeso? È stato difeso proprio le poltrone di questi politici che sono, diciamo, strappagati e numerosissimi. Il governo tecnico è la cosa, a mio avviso, peggiore, perché alla fine ci si rimette nelle mani di una persona che non conosce che cos'è il paese. Per Barbara Zilli, consigliere regionale della Lega Nord, la Seracchiani ha le ore contate e farebbe bene a togliere il disturbo. Dello stesso avviso anche il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini. Questa schiacciante differenza tra il Sì e il No, la dice tutta sulla politica di Renzi, ma io direi anche della Seracchiani, qui si apre una questione anche qui nella nostra regione. La Seracchiani è il numero due del Partito Democratico, è una che ha voluto farla prima della classe, buttando per aria gli enti locali in questa regione e quindi anche la Seracchiani dovrebbe dare le dimissioni, come ha fatto Renzi. Adesso però si apre la questione degli enti locali. Le Uti, questa invenzione, queste 18 mini province volute dalla Seracchiani, la chiusura delle province, sono cose che secondo me devono essere affrontate in regione rapidamente. In casa dei Democratici sono i consiglieri regionali Vincenzo Martini e Serenzo Travanut ad invitare la presidente della regione a dimettersi, sì, ma da vice segretario del Partito. A questo punto dicono abbiamo bisogno che Seracchiani sia in pianta stabile in Friuli Venezia Giulia. Lo deve fare in nome della mole di lavoro svolta in questi anni e anche per se stessa, visto che i leader, e lei resta tale, non si costruiscono ogni giorno ma vanno difesi. Un concetto, quello del doppio ruolo, richiamato pure da Riccardo Riccardi di Forza Italia. Sono molto preoccupato, dice, per quello che succederà da qui alle elezioni regionali e spero che il Friuli Venezia Giulia non paghi il conto delle dispute interne al PD nazionale. Seracchiani ha ancora la testa per garantire gli interessi della regione o vuole fare altro? Dal canto suo la diretta interessata si è fatta sentire con un commento su Facebook. Il giorno dopo rimane la tristezza. Il grande sforzo profuso per cambiare in meglio il paese non è andato a buon fine, ha detto Seracchiani, ma il nostro impegno per l'Italia non finisce qui e rimarrà altissimo. Rispetto al voto in regione vediamo anche una mappa che ci fornisce il piccolo nel suo sito online, proprio con l'esito del voto, e vediamo anche i cinque puntini di colore diverso. Punto rosso, in un oceano di No, si tratta dei comuni di Andreise e di quattro comuni della Carnia, che hanno votato sì, ovvero Trepo Carnico, Fornia Voltri, Preone e Sauris. Dunque queste le municipalità dove l'esito del voto sul referendum costituzionale è stato diverso rispetto al resto della regione, come possiamo ben vedere in questa immagine. La scoffita del referendum costituzionale ha acceso dunque il confronto anche all'interno del PD regionale, il tema sarà chiaramente al centro del dibattito dell'Assemblea regionale, convocata per sabato prossimo dal presidente regionale del partito, Salvatore Spitaleri. E sul voto, come abbiamo sentito anche l'accenno di Fontanini, sul voto di ieri, che apre dunque scenari anche sullo sviluppo degli enti intermedi, di Fontanini dunque ha ribadito la provincia di Udine, chiederà il rispetto della Costituzione e di svolgere i compiti trasferiti dalla regione. Il presidente non ha escluso dunque di impugnare altri atti e rilancia il modello provincia di Udine e area metropolitana di Trieste, dunque per il Friuli Venezia Giulia. E in merito alle province, la giunta regionale ha approvato il piano di subentro della regione nelle competenze delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste, in materia di ambiente, demanio idrico e difesa del suolo ed energia. Una decisione dunque assunta ai sensi, come sappiamo, della legge di riordino del sistema regione, autonomie locali. Due ore di serrato confronto tra sindaco, assessori e rappresentanti delle categorie economiche della città di Udine hanno caratterizzato la mattinata con il futuro di via Mercato Vecchio al centro del dibattito. Partiamo noi innanzitutto con raccontarvi il rendering del progetto sostenuto dall'amministrazione comunale. Rifacimento della pavimentazione, eliminazione delle barriere architettoniche, posizionamento delle infrastrutture, creazione di un'isola centrale attrezzata con arredi e deors, definizione di due corsie libere per il passaggio dei mezzi di emergenza, di servizio e autorizzati, l'utilizzo di un sistema di illuminazione scenografica, la messa a sistema con piazza Matteotti e con il castello. Sono questi gli elementi principali del progetto di pedonalizzazione di via Mercato Vecchio, presentato alle categorie economiche oggi a Palazzo d'Aronco. Il progetto, che partirà tra la fine di dicembre e l'inizio del nuovo anno, con la gara per i lavori di rifacimento della pavimentazione e di eliminazione delle barriere architettoniche, è stato presentato dal gruppo di lavoro del Comune, guidato dagli architetti Raffaele Sciauli e Bruno Grizzaffi. Noi siamo partiti da tre pilastri fondativi che sono riusciti a governare il nostro progetto. Questi tre pilastri sono la sostenibilità, l'attrattività e l'accessibilità. Da lì siamo partiti con alcune proposte progettuali che hanno affrontato il tema dell'illuminazione, il tema della attrezzatura, non solamente di arredo. L'elemento fondamentale è proprio il passaggio culturale, dopo 25-30 anni, passare proprio da una via a Mercato Vecchio a una piazza a Mercato Vecchio. L'elemento piazza è quello che ci ha guidato in questi due anni di lavoro. Le preoccupazioni e le rimostranze dei commercianti, dell'associazione di categoria, c'è la copertura finanziaria dell'opera divisa in più lotti, voi date garanzie in questo senso. Quando uno viene a presentarmi una casa, un condominio, io non chiedo se hanno la copertura finanziaria. Parto dal presupposto che ci sia la copertura finanziaria. Non è il libro dei sogni, abbiamo fatto per step quello che possiamo in grado di fare in questo momento. Queste dunque le novità che però non hanno ancora convinto i rappresentanti di commercianti ed esercenti. Vediamo. Solo il 5 dicembre l'amministrazione espone un progetto, chiamiamolo così, secondo lotto, volgarmente, gli ho detto io un nome, anche perché prima non eravamo a conoscenza di nulla. E quindi noi di Confcommercio abbiamo fissato e abbiamo richiesto a gran voce un altro incontro perché siamo poco convinti già ancora del primo lotto, come abbiamo già richiesto nel momento della nostra assemblea pubblica che abbiamo richiesto. Ad oggi non abbiamo avuto ancora risposte tecniche, abbiamo richiesto un incontro con il RUP, quindi del Comune, e anche con l'assessore Scaletaris, penso che debba darci assolutamente delle notizie per quanto riguarda l'aspetto tecnico del primo lotto. Ripeto, noi non siamo contro una non pedonalizzazione, noi siamo per una cosa assolutamente non ibrida. Oggi si parla di autobus sì, autobus no, non c'è chiarezza. Siamo un po' tardi su tutto, noi pensavamo e volevamo che questo qui fosse l'ultimo degli incontri che andavamo a fare con un'idea finita perfetta, invece già da oggi ci hanno detto che forse l'autobus sì, forse l'autobus no, forse piccolo ma sicuramente non grande, cioè siamo troppo ancora, per secondo me in alta marea, quindi dobbiamo sicuramente ripensare, fermare tutto e trovare una situazione migliore, perché sicuramente per me, ma per altri molti miei colleghi commercianti che io sento ogni giorno, siamo preoccupati per il commercio, perché questa pavimentazione, bella o brutta, va bene, non mi interessa, ma sicuramente farà in modo che vengano più persone o meno persone. Noi la nostra preoccupazione è proprio che vengano meno cittadini. Parliamo ora della Banca Popolare di Vicenza. L'amministratore delegato Francesco Iorio si è diamesso. Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha preso atto delle dimissioni dunque e conferma l'Istituto in una nota e per questa martedì è prevista una riunione del CDA per cooptare un nuovo amministratore, per disegnare dunque il nuovo amministratore delegato. In occasione dello shopping natalizio riapre il mercatone 1 di Reana del Royale. I commissari straordinari del gruppo Emiliano hanno infatti deciso di puntare sulla merce legata alle feste per due weekend di dicembre. Il servizio di Francesca Santoro. Riapre il mercatone 1 di Reana del Royale, ma solo per due fine settimana. La riapertura straordinaria dei 18 punti vendita della catena, chiusi all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, è stata decisa dai commissari straordinari Stefano Cohen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari, con l'obiettivo di fornire una maggior visibilità ai potenziali investitori sull'intero compendio aziendale. Così i 18 punti vendita sospesi, tra cui quello friulano, riapriranno a dicembre nei weekend del 9-11 e del 16-18, con un'offerta merceologica incentrata su complementi d'arredo, piccolo elettrodomestico e decorazioni per la casa, mirata a rispondere ai consumi natalizi delle famiglie. I commissari straordinari hanno inoltre predisposto il nuovo bando per l'accessione delle aziende in amministrazione straordinaria in via di approvazione. Come rimarcato in una nota del gruppo emiliano, vi sono contenute condizioni di vendita più flessibili e coerenti con le aspettative del mercato, rivolgendosi al più ampio numero di operatori interessati al business. Si conferma così l'obiettivo di giungere alla conclusione del percorso di rilancio e cessione del gruppo, nel rispetto dei tempi previsti dalla procedura. L'insegnamento del Friulano nelle scuole potrà contare su un potenziamento del DocuSquele, il centro di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana. Destinatari dell'iniziativa saranno in particolare gli insegnanti. Implementare il DocuSquele, il centro di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto da Arlef e Società Filologica Friulana. Gli insegnanti avranno così modo di migliorare ulteriormente la propria preparazione, anche confrontandosi con i colleghi di altri contesti minoritari, sia italiani che europei. Un altro passo importante verso il rafforzamento della lingua friulana nelle scuole, che noi vediamo con profonda soddisfazione e continuiamo a intervenire anche per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, e proprio nel prossimo triennio finanzieremo in parte un ricercatore a tempo determinato per la formazione primaria degli insegnanti. Abbiamo già finanziato un corso di formazione per gli insegnanti che già insegnano il friulano e continuiamo a lavorare insieme a tutti i soggetti che erano oggi intorno a questo tavolo affinché la qualità dell'insegnamento del friulano nella nostra regione cresca e sapendo che la conoscenza di più lingue ha dei risultati estremamente positivi sulla formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. E spostiamoci ora all'Ignano Sabbia d'Oro, dove è stato presentato il cartellone di Natale da Mare 2016. tra le proposte il tradizionale grande presepe di sabbia, ma anche mostre, concerti e mercatini e nel periodo di Capodanno il Comune ospiterà anche un centinaio di abitanti di Amatrice. Il servizio. L'Ignano Sabbia d'Oro conferma di essere una città turistica in grado di attrarre anche d'inverno in particolare per le festività natalizie, in occasione delle quali è stato predisposto un nutrito programma di iniziative. Si tratta di Natale da Mare, la serie di eventi che si protrarrà sino al 28 gennaio. La realtà lignanese è una realtà ricca di associazioni di volontariato, se ne contano oltre 70 se ricomprendiamo anche tutte quelle sportive e queste sono in grado di dare, soprattutto nel periodo invernale un qualcosa di unico e di magico alla nostra città che invoglia anche gli esterni a frequentare i nostri territori. Fulcro del programma il grande presepe di sabbia proposto per il tredicesimo anno che si richiama questa volta al terremoto del 1976, trascene di vita friulana e rappresentazioni sacre attinenti l'area colpita dal sisma. Eventi in collaborazione con Gemona e Venzone, quindi l'esposizione Rinascere, il sacro quotidiano del pittore Sergio Favotto ed ancora i festeggiamenti di Capodanno con alcuni ospiti particolari, i terremotati di Amatrice. Il ricavato del presepe che ogni anno viene dato a favore di associazioni che hanno bisogno di aiutare bambini, quest'anno abbiamo pensato ovviamente di aiutare le regioni del centro Italia, ma abbiamo pensato di farlo in maniera un po' diversa. Abbiamo provato a invitarle a Lignano, hanno risposto in quasi 100, ci saranno quindi 100 abitanti di Amatrice, soprattutto genitori con bambini che verranno a trovarci dal 30 di dicembre al 2 di gennaio, staranno con noi, parteciperanno a tutte le manifestazioni di Capodanno, dove ci sono il Capodanno dei bambini, una 13 anni che viene fatto questo bellissimo Capodanno solo per loro. Speriamo di potergli regalare quattro giorni in cui non pensano a quello che hanno passato. Siamo in chiusura, prima di salutarci un veloce sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani, e dunque per martedì 6 dicembre su tutta la regione è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla bassa pianura di notte e di primo mattino saranno probabili banchi di nebbia in diradamento durante il giorno. Gelate notturne a Fondovalle e localmente anche in pianura. E con il meteo si conclude questa nostra edizione del Telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata in compagnia di Udinese TV. Grazie per la visione! Grazie a tutti.